La riapertura delle naia di alle porte, il club acquatico, oltre che essere il gestore temporaneo a cui la regione ha affidato la struttura lo scorso 30 agosto, è anche la società che di fatto ha risposto al bando di durata ventennale da 39 milioni di euro. Non è un dato che può essere identificato con un mese, perché noi lo identifichiamo con delle ore, nel senso che conta semplicemente avere la sottoscrizione della fornitura elettrica che per le gestioni private del passato è stata soggetta anche senza attiva volontà, gli aumenti dell'energia elettrica, la crisi energetica di cui tutti gli italiani hanno sofferto, è stata soggetta a delle passività. Quindi è normale che il nuovo gestore riscontri delle difficoltà, ma queste difficoltà si sono state superate o si stanno superando, subito dopo l'impianto sarà aperto. Nell'uno o nell'altro caso c'è comunque il gestore certo che è il club acquatico? Attualmente l'impianto riaprirà con una gestione assegnata in maniera provvisoria al club acquatico, come adunati che ha come principale fornitore il club acquatico. Poi c'è stata una gara ventennale dove lo stesso gestore ha formulato l'unica offerta che al momento è stata registrata, diciamo in un paio di giorni quelle carte saranno esaminate e vedremo e poi valuteremo. Insomma, detto in altri termini, intanto si parte, questa è una boccata di ossigeno per i lavoratori ma anche per gli sportivi. Nel frattempo l'AIRC, l'Agenzia regionale per la committenza, provvederà alla nomina della commissione chiamata a esaminare l'unica offerta arrivata, valutando prima l'aspetto tecnico e poi quello economico. In questi giorni proseguono le attività preparatorie all'interno della struttura.